Allora, oggi siamo con una ragazza pazzesca, una delle Uag, proprio delle promesse del mondo delle Uag, bellissima, molto simpatica, siamo con Ludovica, che deve dirvi una cosa importantissima. Buonasera, devo dire una cosa, meglio morta che struccata. Sì. Allora, sono qui con una sfida molto speciale, direttamente dalla Roma, è un'attaccante, Mattia Destro. Ciao, un saluto grande a Roberta. E forza? Forza Roma. Roma, sempre. Ciao. Ciao.